costruiamo ora il becco della teiera per questo congeliamo prima i layer dove sono posizionati i solidi che abbiamo appena creato per comodità di visualizzazione quindi modello coperchio, modello corpo e modello manico invio con zoom facciamo uno zoom nell'area che ci interessa della teiera ora per prima cosa dobbiamo decidere come modellare la teiera abbiamo detto che useremo delle superfici di Kuhn a partire da dei profili che sono già inseriti, uno e due dobbiamo quindi inserire altri due profili il corrispondente in alto e in basso quello ancora da inserire i profili da inserire saranno delle semi elissi quindi delle elissi, poi inserite elissi complete, tagliate bene, per prima cosa possiamo intanto definire il profilo becco come layer corrente e inserire una linea poi capiremo perché corrispondente ai due estremi così è anche visualizzato il punto di inserimento posizioniamo l'UCS nella parte in basso dove inseriremo adesso le elisse quindi UCS sposta SP, invio e posizioniamo l'UCS in quel punto usiamo la funzione di orbita per spostare leggermente la visualizzazione e vedere l'oggetto in assonometria quindi per inserire una elisse dove questo che abbiamo tracciato è l'asse maggiore perpendicolare quindi al piano di gecenza delle due spline inserite dobbiamo posizionare l'UCS perpendicolare appunto a questo piano quindi uno dei modi più diciamo semplici potrebbe essere UCS N nuovo invio l'asse Z quindi facciamo passare l'UCS per quindi con l'asse Z orientata coincidente a questo segmento quindi A, asse Z come si può vedere nella prima della prima ozione invio per confermare e l'asse Z mi sta chiedendo orientata verso la fine di questo quindi vediamo adesso la posizione dell'UCS l'UCS è posizionato con il piano perpendicolare XZ al piano di giacenza quindi di inserimento di un'elisse a questo punto possiamo ruotare l'UCS con X90 ed ecco la posizione XY del piano complanare con l'elisse che adesso inseriamo quindi elisse l'asse maggiore sarà questa e adesso indichiamo la distanza dell'asse minore che sarà DR10 posizioniamo adesso la vista la parte in alto e inseriamo l'elisse agli estremi delle due precedenti spline quindi questa che era puramente indicativa la cancelliamo perché è abbastanza difficile in AutoCAD inserire un'elisse curva quindi semplicemente a questo punto inseriamo ancora una linea attivando l'OSNA come estremi sugli estremi di queste due spline posizioniamo l'UCS invio SP invio l'origine qua orientiamo l'UCS quindi UCS invio N invio A invio per asse Z dove l'origine confermiamo dove si trova attualmente e la Z sarà questa ripetiamo la stessa operazione di prima con la rotazione dell'UCS attorno all'asse quindi UCS asse Y in senso quindi 90 positivo ecco la posizione del mio UCS UCS X adesso di 90 in maniera da ruotarlo complanare quindi con l'elisse che stiamo per inserire che dovrà essere ovviamente perpendicolare al piano precedente cioè il piano precedente che contiene le due spline quindi elisse inseriamo i due estremi e il raggio è 6 questa è la nostra vista dell'elisse e delle due elissi a questo punto con uno zoom intanto facciamo una visualizzazione e tagliamo su questa tagliamo la parte dell'elisse con la stessa di prima su questa tagliamo l'altra elisse quindi abbiamo adesso due elissi semi-elissi inserite e due spline precedenti su queste quattro elisse inseriremo ora una superficie di Kunz seguiti di Kunz 8